e ciao a tutti ragazzi benvenuti con mercenari gacchieroni siamo ritornati con rice nella scorsa puntata ok stavamo parlando un attimo con il padre il padre di marius aspettate allora parlando lui ci ha mostrato che damocle era detto il centurione nero e ci ha consegnato un pugnale damocle è diventato un centurione nero perché durante una battaglia lo uccisero perché i suoi i suoi comandanti diciamo lo tradì lo hanno tradito e per questo lui si è vendicato adesso tutti i traditori li va cercando e gli uccide questa è la storia adesso stiamo con nostro fra con nostro padre difendendoti diciamo oh cazzo adesso mi sono rotto un po' il cazzo po' e meno uno ci stanno invadendo i barbari nella nostra casa questa ancora un po' di inizio del tutorial poi diventerà molto meglio dobbiamo proteggere la nostra famiglia non ci sarà ora vi lascio da soli diciamo tutto bene hanno ucciso nostra madre oh e tu non ci sono per cazzo ok 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 boom andiamo a difendere il nostro padre ok 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 oh muore ci sono stramadre ora farà una brutta fine cazzo ok 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 oh oh il combattimento è fighissimo ok ah che vuoi fare vendichiamo l'assassino di nostra madre ok ok muori muori boom va aspettate scusate se scollegate il controller ok andiamo oh boom ok ok oh shoo secondo me morirà anche il padre non voglio tirarlo ascolta vogliono ucciderci vallos dobbiamo arrivare al senato per salvare la mia gente ok ah 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 hai ucciso nostra madre ora farà una brutta fine oh 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 andiamo a cercare il nostro padre che è leontius per chi non lo sapesse ok il gioco si sta facendo interessante eppure stiamo all'inizio eppure stiamo all'inizio vediamo un po' dove dobbiamo andare troviamo il nostro padre ecco 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 il posto Adesso qua Mamma mia Natale Oh ha il Colosseo Fighissimo ed acqua Bella visuale Ma Ora Vediamo Io a trovare non sono tanto bravo Ecco qua Trovato Nero Solvere E Ok Nero Scattiamo Scattiamo Su Su Lo sapevo Ecco E' crepata anche il nostro conagre Ok Oh no Vabbè C'è Garcieri Giù 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 e dai aspettando, il pubblico si annoia oh dobbiamo ok oh oh Mario Sussu bam oh non venite più boom 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 oh Ma che stiamo combinando Ciao Però ne siamo un po' troppi Qualcuno se ne deve andare Ok Ok ciao Ah ma che vuoi Ma che te ne fai di condosso Questo secondo me è pure migliore Ma che vuoi Boom 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 Barbari da per tutto E qui non si passa, Varius Devi portare indietro e abbassare il botte